benvenuto in questo nuovo video della serie camsis tips and tricks in questo video parliamo di creare un nuovo show caricarne uno vecchio o caricarne solo una parte andiamo vediamo quindi come creare un nuovo show all'interno di camsis andiamo su setup new show selezionando new show ci chiederà ovviamente se vogliamo creare un nuovo show e quindi togliere quello da cui stiamo lavorando e avremo davanti una serie di modalità live chase è quella cui siamo abituati da sempre utilizzando camsis abbiamo poi live cue stack che di default ci metterà una cue stack ma che dobbiamo attivare con il tasto go non si attiva automaticamente quando alziamo il playback oltre a una serie di altre funzioni theater non tracking e theater tracking quelle più per il teatro che assegnano di default due secondi di fade tra una cue e la successiva e appunto possiamo scegliere se vogliamo che la nuova cue stack sia in tracking o non lo sia abbiamo poi og2 che si avvicina a tutte quelle impostazioni per avvicinare per rendere più semplice la transizione per tutti gli utenti og e tramite custom setting possiamo invece caricare il nostro set di settings appunto per cominciare il nuovo show con il nostro set di informazioni tra l'altro qua sotto abbiamo un piccolo reminder che ci aiuta a scegliere in questo caso diciamo live chase se invece volessi caricare uno show che è già esistente mi basterà andare su load show e all'interno del mio file manager andare a scegliere il video che più il file che più mi interessa selezioniamo quindi demos per esempio e all'interno di demos scelgo il file che voglio caricare ad esempio showvedemo.show ecco che il mio file è caricato le impostazioni sono state caricate e posso cominciare a lavorare con il mio show c'è poi una situazione intermedia diciamo che mi vado a selezionare un nuovo show vuoto ma voglio importarmi ad esempio la patch dello show demo Kansas ecco in questo caso tengo premuto shift e seleziono import show cosa voglio prendere? tutto lo show? le palette? la struttura? gli dico advanced così lo scelgo dopo seleziono il file da cui voglio attingere quindi showvedemo.show ed ecco che posso dire che per esempio voglio importare la patch e per esempio le palette gli effetti no, le Q no, le Qstack no, niente playback, le griglie si, il visualizer si e voglio appunto le palette done ed ecco che mi trovo sul mio layout 1 i gruppi, le palette, ma se vado a vedere Qstore o Stackstore le memorie non sono state importate abbiamo quindi visto un modo per importare una parte di uno show in modo da non dover ricominciare veramente da zero insomma ora sai come poter iniziare a lavorare con Kansas ricordati di seguire il nostro profilo instagram Kansas Italia e tutti i nostri social qui sotto in descrizione alla prossima